Alzamantes mi avete provocato, è via! Allora, uno e due, più piccoli indietro, uno a sinistra, uno a destra, due a sinistra, più piccoli a destra, uno e uno, due a sinistra, più piccoli a destra, uno e uno, due a sinistra, più piccoli a destra, uno e uno. A questo punto inizio la parte B, parte B faremo due a sinistra, uno e uno, due a destra, due a sinistra, uno, uno, due e pinocchio, momento fantasy. Come dice la Sara, ricordate, calzino con i rigoni stiamo andando a sinistra, calzino con i righini stiamo andando a sinistra, destra, sinistra. Quindi, quattro volte la parte A, due, due, uno, uno, due volte la parte B, due, uno, uno e due indietro, o momento fantasy. Questo per chi non lo sa ballare, ma voi siete già bravissimi! Sai, e paura, come kind dei risydoli? Frazzi, e paura, qua, vai! A una, 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 una. A un'altra, è uno, due, latina, più piccoli, o terribile per la base bianca, ovuno, uno e due,Charlino con iiders, per il lega altra, un attra, un attra, uno, due, lunghe per il genocchio, Grazie a tutti. Grazie a tutti.